Non contraddirti Giovanni, hai appena sottolineato quanto sia importante imparare a restare soli? No, certo, ma se ci si dimenticasse come uscire dalla propria solitudine, se la solitudine diventasse un'abitudine, una dipendenza, una droga, capace di farti sentire le parole degli altri solo come insignificanti, inferiori, solo come rumori. Poi noi pensavamo di andare al palace stasera. Io non vengo. Ma come non vieni? Dai ci divertiamo, non sta a fare il cagacazzo, prendiamo l'alcol fuori, beviamo qualcosa prima. Il solito presuntoso del cazzo. Non viene? No, no, lascia stare.